Carico a dirsi ed ecco la mitica Giangi e il mitico ferro di rientro dal test Long Run Seagway Mini e Seagway One alla capitale. Siamo rientrati con il nostro Frecciarossa 1000, spettacolo e stiamo facendo un'asiglia della Martesana per ritornare a casa. Siamo arrivati con 42 minuti di ritardo in stazione centrale perché una bestia si è suicidata sotto Frecciarossa causando ritardi inverosimili. 42 minuti sinceramente, poi Frecciarossa ha cominciato a andare a 300 all'ora, ha recuperato 10 minuti. Io e la Giangi a bordo dei nostri potenti mezzi stiamo facendo il navigo della Martesana che come vi avevamo indicato nei precedenti servizi è perfettamente illuminato di notte, spettacolare. Per rientrare a casa è la stazione centrale e stiamo andando, stiamo mantenendo una velocità media di 10 km orari, sulla viglia Martesana non c'è neanche un semaforo e praticamente noi usciamo a Gobba, siamo entrati alla fine di Ferrante a Porti sotto centrale. È veramente uno spettacolo. Questo è l'unico pezzo dove si prendono un po' di vibrazioni perché per 20 metri c'è questo pavimento un po' antico che fa storia però rompe molto i maroni, detto tra noi. Comunque è spettacolare, il Sigway Mini si è comportato veramente da Dio, il Sigway One medesimamente, piacevolissima come sempre le riunioni in federazione, in corso in federazione, piacevolissima la città di Roma per la Giangi per quanto riguarda la visione dei monumenti storici, è stata spettacolare la giornata di sabato e poi domenica si è riposata. Sigway Mini e Sigway One e i loro piloti, i loro tester perché diciamocelo i mezzi hanno retto ma i piloti sono stati delle Iene, hanno affrontato, aggredito e vinto le buche e le sconnessioni della capitale. Adesso cerco di raggiungerla Giangi ma sta veramente marciando ai limiti della legittimità. signora Giangi sta andando in giro a venti all'ora, a venti all'ora, con un limite di legge di sedici. Sì, erano in San Pietrini, comunque è un disastro, assenza di marciapiedi. Signora Giangi se mi spinge ancora di più a sinistra mi butta nell'erba però, mi sembra che lei guidi come Schumacher, è un disastro. La Giangi perché ha un odio per le sconnessioni, ragazzi il problema grosso è che io e la Giangi non conoscevamo minimamente le strade romane, infatti per due giorni abbiamo fatto come i Pirla via Cassia, quando c'era la parallela di fianco che era spettacolare, come dei Pirla vero, ma d'altronde se non è indicata che dovevamo fare, mi prendo completamente la responsabilità della stupidata pazzesca eseguita, ma vabbè ci siamo divertiti anche questo e guardate che luci spettacolo seguo i mini. Senti la Giangi che si sta lanciando, dice una volta conquistata la capitale nulla sarà più spaventevole per la nostra tester Giangi, ok ragazzi, guardate cosa sta andando, io direi che si possa dire che abbia il pieno controllo del mezzo, mi ha veramente stupito, il mezzo avrà anche aiutato, ma credo bisogna fare grandissimi complimenti alla mia signora Giangi Quaddista e Maidoma, che adesso per tutti questi complimenti secondo me tira un bottone, no è difficile, è veramente difficile. Signori siamo andati bene, siamo stati benissimo, abbiamo mangiato da Dio, spero che vi siano piaciuti i nostri articoli e adesso alle ore 11 di sera i Ferralaggiaggi vi salutano, ma no amore siamo arrivati alle 11.50, cavolo perché mi ha fatto 42 minuti, siamo arrivati alle 11.30, è vero è vero, adesso siamo arrivati praticamente alla fine di Via Padova con la vediamo artesana, giriamo a destra e in 300 metri siamo arrivati a casa. Ragazzi in Raggi siamo riusciti a salvaguardare il risultato del MotoGP, della Moto3 e della Moto2 perché non l'abbiamo vista, in casa il nostro fantastico decoder ha registrato in HD tutte le classi e adesso il Ferralaggiaggi si buttano in una visione esagerata di tutte le classi della moto di GP. Dal Ferralaggiaggi segui i Mini e One, number one, number one, adesso raggiungiamo la Giangi ma lei è dura, la va meno da nada. Ecco qua amore una parola per gli utenti che seguono, che ti seguono. Ciao a tutti, adesso andiamo a mangiare che abbiamo fame a setta. Quando la Giangi va a venti all'ora sappiate c'è solo una certezza, ha fame. Signori, dal Ferralaggiaggi, da quadristi.it, è stato un piacere per noi che ci abbiate seguito. Un saluto.